ciao a tutti ragazze venuti in questo nuovo video di minecraft 162 sono con diamond babbo natale bianco se l'inglese ci fa schifo bianco ok perfetto e' la proposta e' la soluzione infatti vestiti ok io mi tolgo i vestiti la buona terra la buona terra la buona terra e' la inculato ok come avete visto sono stato un po' tanto troppo assente una settimana circa ma anche di più diciamo dieci giorni dato che oggi e' il 16 e' l'ultimo video caricato e' stato il 6 il 6 davvero si il montage intanto spero che vi sia piaciuto quel montage perchè e' stato veramente ci ho messo tipo una settimana a farlo dato che facevo intervalli di mezz'ora smettevo mezz'ora lo riprendevo mezz'ora lo riprendevo dettagli ok ok ma sono stato nel frattempo vado a fermare il legno per fare il pavimento lì che ti ho detto prima ah sì ok ci sono dei zombie che stanno stavano facendo il bagno ah bene inizio vuol dire che no 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 vi giuro che non vi stavo guardando non ho visto niente sono caldi eh sono caldi eh ok basta hot 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 mi ha fatto vedere mettere la pubblicità che fanno tipo non lo so a mezzanotte alle 11 su Italia 1 su hot hot no basta ok comunque inizio con dirvi che come vedete ci saranno dei mini scatti perchè non ho stupido congelatore stai zitto ok il congelatore parla eh diciamo di si perchè lui è un congelatore congelatore ok ok no basta la devo smettere di drogarmi comunque vedete ci sono dei mini scatti perchè non ho installato la optica in dato che questo portatile mi fa scalare c'è sempre il creeper spione che deve morire ok e inoltre se sentite tipo tipo rumori di esplosioni atomiche sentite i rumori di esplosioni atomiche è perchè sono sul tetto a registrare si sul tetto proprio perchè lui all'aperto perchè proprio e tra l'altro e tra l'altro c'è davanti i pannelli solari quindi ciao pannelli solari siete molto carini non siamo nella ftb allevare no 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 veramente ok ok basta c'è questo posto che e no credo sono i miei miei posti intanto che vado a prendere della sabbia anzi intanto che faccio qualche giretto così proprio adcazzo si 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 zi 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 intanto che faccio proprio qualche giretto tunze tunze esattamente vi volevo dire perché sono stato molto assente in questi giorni allora prima cosa essendo in tra virgolette vacanza perché non è proprio una vera vacanza non ci sono mai a casa cioè praticamente ci sono sempre a casa diciamo la verità ma vengono praticamente ogni ora ogni minuto ogni secondo la mia fottuta permanenza qui ogni millesimo di secondo esattamente miei zii miei prozii bavo natale bifane tutto miei cugini più che altro mie cugine perché alla fine di cugini ne ho due contati e 25 mila cugine io non ho cugine 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 ok veramente ok ma le mucche le posso sterminare no non puoi sterminare perché sono le mie mucche eh sai che è una mucche perciò bastardo arriverà il difensore delle mucche non so chi a ucciderti super mucca oddio no è un cartone e continuo a spiegare a te ok questa storia è molto triste esattamente molto ma molto triste è convinto ok certo inoltre non è mica finita qua voi direte ci sarà un motivo perché sono venuti lì tutti i tuoi zii mica zii angeli babbo natale bifane demoni polver si c'è un motivo perché praticamente mio nonno è dato un po' di tempo che stava seriamente male e alla fine alla fine vedo solo io comparire ok sono troppo drogato vado il server eh no niente va bene eh da un po' di tempo che stava male in questi ultimi giorni è stato proprio un fin di vita proprio male e alla fine è morto quindi voi pensate che quei tre giorni in cui proprio è andato in anche in coma praticamente sono arrivati i miei zida svizzera polonia argentina algeria si anche no moldovia buruzi e soprattutto dal polo nord esatto e anche dall'alaska no cazzo perché sennò gli americani si offendono e Obama è arrivato pure Obama e quindi c'è stato in quei tre giorni quattro giorni un casino della Madonna giusto per citare la trinità no anche i parenti di Gesù sono venuti ah sì sì proprio è venuta Maria non è venuta con lo spirito santo ho finito la stanza guarda che figata no no dimmi se non è figa ecco prepariamoci a un leggero infarto dopo sguardo alle 25 crafting table colpiazzate da fabbola allora aspetta che sta arrivando perché c'è un che uno scheletro camperato sotto il il ciao scheletro ti voglio bene dammi quell'arco non mi ha dato l'arco perfetto sta arrivando I'm coming poi oltre a questo in in futuro ci saranno molti molti meno video con me siccome killer si deve trasferire esattamente praticamente avete presente benvenuti al sud quel film epico esatto io sono tipo sono tipo la stessa cosa solo che al posto di stare un anno ci sto proprio per quanto io non è che non dico che il sud fa cagare rispetto al nord è una cagata ma non è che mi piace molto cioè io sinceramente capisco il nord poi vabbè se trovo una crafting table in mezzo a un computatore mi va anche bene no ok basta va bene si come vedete stando qui mi sono drogato abbastanza oppure il caldo che mi sta facendo sciogliere tutti i neuroni che ho cervello eh va sciogliere il cervello esattamente che sono praticamente due neuroni contati che si stanno sciogliendo ok ora detto tutto questo un baradam praticamente assurdo 111 punto exama td xd11 possiamo possiamo veramente iniziare l'episodio praticamente ho detto in 8 minuti le cose che vi dovevo dire da due settimane all'incita ok detto questo vi finisco tutto il discorso sono meglio di metterci due settimane a rirle comunque va bene detto tutto questo finisco il discorso col dire che in questo periodo non credo vi pubblicherò molti video ce ne saranno abbastanza pochi anche in futuro beh in futuro credo magari una giura sì ma senza di me sì perché lui essendo a scuola su abbiamo sicuramente impegni diversi esattamente e poi tipo la scuola qui a parer mio non penalizzo nessuno ma a parer mio la scuola del sud è più facile tu non penalizzi nessuno ma penalizzi esattamente proprio basta e sicuramente lui tipo avrà 25.000 compiti italiano forever esattamente mentre io tipo sarò tutto il tempo a scialarmi a trappor computer a spi Xbox esattamente qualcosa del genere sarà questa ma sicuramente vi assicuro vero che lo assicuro è che te che non mancheranno video con me se no io con te ma anche la se no io prendo un valore lupo c perchè sarò io prendo un volo con l'italia che pagò 825 euro solo per l'andata vado lì stupro per lui e non che fanno un triangolo guarda un triangolo è una tenda tutti è una cosa hanno fatto una cosa 3 matematica è il triangolo più 1 si sa che se facciamo che non è un'area di pittagola 2 1 uguale triangolo uguale luchino ricorda 3 teorema di dai a mondia ed a studiare proprio ok il pavimento l'e finito quello qua allora io prendo la sabbia ma arrivato un clipper assassino no lontano cinquanta blocchi eh infatti ho visto il fisico che se non dobbiamo rifarci la casa ma no c'è ancora il buco che ti rifatto c'è legno oddio oddio che abbiamo riparato il buco ho due che buco ok sta diventando questa per diventare notte pure quindi veramente ovvero sì inoltre aspettatevi the dropper 2 che arriverà entro 25 anni luce sì esattamente proprio calcolato con i computer della nasa che hanno tipo 825 processori ok solo? sì solo ok ok eh perfetto ora ci ho sottolineato il cuscino della mia sedia io sto prendendo la sabbia per soffocarti cazzo cazzo è che se non è che ti devi stuprare il cuscino eh no non ne ero io sta diventando notte vai a dormire ho sentito cioè ho visto ho letto sopra e ricordati che è mio eh sì avete visto il letto proprio visione notturna stile planetario mi piacevano mi piacevano brioche quindi pan di stelle e quindi le stelle no il discorso va sempre al di brioche esattamente tutto è collegato al brioche aspetta dobbiamo fare una scaletta di sabbia no perchè sono uscito dal letto questo che stai facendo una scaletta una fottutissima scaletta no ok perchè sono sdraiato sulla pressure plate non lo so va bene grazie mancraft ammiro il tuo modo di trattare i barboni ok ti piace la mia scaletta sì davvero bella ma sai che se io faccio così cade tutto no mi ha scaletta ok ok vai e viene aiutami a raccogliere della sabbia e con la sabbia che ti ho fregato posso avere un vlog la sabbia di me due due dai su arrivo perfetto che bella è il fratello vuoi cabab potrei anche eh sterminarlo sterminare su no tipo questo qui sarà l'episodio dalla parte gameplay più noioso del la mia vita dalla parte commentary no porca no commentary no dai non essere così pessimista di te stesso si ma comunque stiamo connotando che dopo aver raggiunto i 100 iscritti cioè si sale molto più velocemente si effettivamente tipo due settimane due e tre settimane che abbiamo 100 iscritti siamo già a 140 e fra l'altro in quelle due settimane non ho pubblicato nessun video per far notare quelli no come sprecare blocchi di sabbia sabbia no non lo so dire al contrario così sulle piedi cioè tipo quando forse su quattro piedi si sono arrivato quando siamo arrivati ai 100 il giorno dopo il giorno dopo eravamo a 108 no era te erano 115 ah si 115 giusto 115 cioè non per dire ma quanto siamo pro c'è non perdice proprio proprio uno tu sei tu da dai non funziona glitch perché mi lagga il mondo lui sempre adorare una palla schifoso è una palla da palla una palla da palla una palla da palame cos'è stu cosa? sono un po' il farina di niente ma non ho fatto io sto per il nuovo si chiama ma cosa 10 euro io ho fatto passato qualche certo non vedi che io con me io ho messo tutto quello che ho sentito direttamente quindi un po' io a rega ragazzi ricordatemi che scommesse con la mia mondiale devo far più st ma è più che sto dicendo che sono di fatto non è bisogno di un po' il simile che sa più poche passato alberta 10 dobbiamo anche rilasciare la mappa videocampi il solito non guardano mai la mappa che cazzo vi faccio farlo e magari nel prossimo punto ci sono rivediamo perchè adesso c'è sinceramente non ho problemi con la connessione perchè quando sono venuto qua ha detto sì ciao che video faccio come di carico con la connessione di mia nonna si cerca veramente di mia nonna letteralmente figurati non carico niente poi faccio vado vado a fare il test e ci metto c'è della mia tua casa gg si si infatti vai al server lagomino grazie nonna ok ringrazio non è un'altra non è vero 4 blocchi di senso di 0 prima di occhi di buro non è vero 4 blocchi di senso di 0 prima di occhi di buro no ok no devo finirlo io no 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 se lo finito io no se lo attivo a spazio per me per me ero mamma che attività ok dimmi capo non so devo fare fermo ti asci stato perfetto questa stanza di workman c'è quanto è no no va che fa un effetto ipnotico quando entri di corsa però entri di corsa zero 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 poi fra l'altro è tutto molto figo e sembra tipo un mosaico figo 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 cioè perchè tipo vedi le estremità delle workman c'è ma formano un rombo molto paio spacca che cosa stai facendo sul mio letto essendo la sandstone con le facce di che per come cassa si faceva si faceva moto dico allora ti sembra la sandstone quella lavorata tunse tunse mi pare si e poi che è sta cosa smooth sandstone che cazzo è l'ho già fatto un po' insomma cos'è sta cosa c'è uno c'è davvero molto interessante no mi pare che si fa con le slab di sandstone ma quella non lavorata ok e 8 e 9 ok aspetta vediamo se riesco si faceva così ecco devi mettere due slab in stile pillar nella workbench ok 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 io ti ammazzo il cane può uomo lo sai vero cosa stai facendo è la mia scala mi faccio salire sulle fai un letto a ma no guarda no stiamo in letto no 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 1 1 1 2 3 3 3 sempre sazio non dover mangiare no lo stai facendo il mio letto così spacca dici da me no tema tipo babbo natale no ok perchè devo dire cose frutte babbo natale non volevo vedere effettivamente rosso e bianco cosa è babbo natale rosso e bianco macchina mi sento anzi no non voglio stare vicino a te tu sei una persona triste metto non il titolo perfetto che tipo cui ci metto il no aspetta design 1 1 1 punto esamativo allora mi serve una scala scale è venito a me perché non ci sono le scale non abbiamo non abbiamo non abbiamo legna nera legna 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 che cosa stai facendo vabbè guarda no no guarda che figata dimmi se non è figo sembra un tiringo confronto il perché vogliono prendere la legna se tu sei dai e dai eri è così ancora più figo se è fortunato che non ho la optifine se no dimmi se sono un artista madonna se vuoi fare l'architetto se Giovanni Mucciaccia guarda proprio cosa c'entra Mucciaccia e lui è andata non è nominare il nome di Mucciaccia in van mi sa chi si sa se no eh certo tu un po' no così il non è stato venuto in questa nuova attacca allora perché si può dare non abbiamo un comodino ci si fenomeno quella che volete può essere scus può essere il gioco possere la cosa più importante che servono delle forbici arrotondate senza non potete fare niente a punta a punta non vanno bene perché sennò dopo se no dopo rischiate che entrano in qualche occhio ok una volta che avete procurato il vostro occhio avrà le mesturazioni quindi non è una volta buona una volta che avete procurato della porta che si... no che una volta che avete procurato della legna ma visto l'istrata ah si l'ho vista eh figa 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 spogli vedi sono troppo un artista una volta che avete procurato della legna che cazzo vuol dire una volta che avete procurato della legna tagliata appositamente con forbici arrotondate appunto arrotondata se no non va bene trasformatela in legna lavorata anche un po' troppo si anche cazzo c'è anche rombo non è che alla fine cambia ora una volta che l'avete lavorata avete fatto? avete fatto? avete fatto? avete fatto? avete fatto? ok una volta che l'avete lavorata potete trasformarla in scale le scale come si piazzeranno? si piazzeranno in questo semplice modo non questo magari grazie in questo modo in questo modo ok come vedete questo qui è un semplice comodino molto utile e tunse tunse potete usarlo per ogni per ogni esigenza tipo pensare torce così ad cazzo spacca molto a la prossima puntata ok no poi c'è tipo c'era tipo alla fine delle puntate quel tipo quella faccia strana no? che parlava in un modo assurdo mai epico ah la statua esatto io ero la statua si 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 è la stata non è una palma una palma con le bocce di co si è la stata quella lì era qualcosa di epico ok ti ha via tu io lo guardavo solo per quello è per le forbici arrotondate è giusto è tipo poi quando tipo c'era quello lì che faceva tipo cose epiche con i vestiti e cagare ma non è si si è un gigante si anche per il viso ma non è ah si 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 ok dopo questo ritorno al passato possiamo creare dei panetti il pubblico fai schifo tic non sono stile tic cos'è fatto siccome qualcosa mosto torci il hai dato le torce così così più più giustamente per fare perfetto ma forse ci sta meglio con un'attenza la stagione io vado a spaccare con questo ok va bene io direi che per questo episodio in cui abbiamo fatto una sega è tutto però abbiamo dato spiegazioni esattamente della cosa più importante saggio e abbiamo ripetuto la cesta proprio utile 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 utilità ultimità dov'è un po' difficile arrivare esatto ok no mi manca un'offense per fare cos'è sta cosa un lampadario lì do' fare una cosa a fai da noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi 1 1 2 3 4 5 staggo staggo